Un campione di oltre 6.600 alunni delle scuole secondarie di primo e secondo gradio del territorio dell'Asl di Salerno, di età compresa dagli 11 ai 20 anni, ai quali è stato somministrato un questionario online sull'impatto che l'emergenza Covid ha avuto sulla loro vita e sulle loro relazioni in tutti i suoi aspetti. È stata l'Asl di Salerno a realizzare la ricerca studio per esplorare e conoscere la condizione dei giovani nel periodo del lockdown, per comprendere i loro stati d'animo, le emozioni e le percezioni vissute. Le aree di indagini hanno riguardato la percezione e la consapevolezza personale dello stress, la resilienza, la situazione in famiglia, l'uso della tecnologia e il digital divide, il cyberbullismo didattica a distanza, il rapporto con i compagni, i comportamenti a rischio, la percezione delle emergenze e del futuro. Buono nel complesso lo stato di salute dei giovani vissuto nei nuclei familiari che è emerso dai risultati dell'indagine presentata questa mattina nel corso di un incontro presso l'ordine dei medici di Salerno, dalla dottoressa Rosa Zampetti, direttore dell'unità operativa di promozione della salute dell'asala di Salerno, dal dottor Marco Maggi, consulente educativo, dal direttore del dipartimento di prevenzione dell'asala di Salerno, Mimmo della Porta, alla presenza di vertici aziendali, ordine dei medici ed operatori coinvolti nel progetto. Ragazzi, un campione di 6.600 ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori della provincia di Salerno. Quindi devo dire un bel dato, un bel numero che ci consente di dire effettivamente con dati reali come lo stato di salute dei nostri ragazzi a livello psicofisico. Questo è quello che è stato il lockdown, un evento nuovo per tutti, quindi i ragazzi hanno adottato un comportamento consapevole. Va valutato invece adesso il comportamento che si ha nella fase, nella fase 2, nella fase 3 e capire se poi questa chiusura in casa possa avere delle ripercussioni anche nella vita sociale. Non dimentichiamo che abbiamo avuto anche dei suicidi di ragazzini in età scolare e che oggi purtroppo si evidenziano anche eventi di vandalismo in città. con la riapertura delle scuole. Ovviamente bisogna tenersi alle indicazioni, alle istruzioni anzi, del ministero proprio competente. Però da questa indagine, da questo approfondimento verranno fuori anche dei suggerimenti che saranno utilizzati dalle varie scuole, non tanto di tipo tecnico ma soprattutto di tipo comportamentale. Grazie. 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 Grazie.